guai a dire a un appassionato di disegno che questi possiede troppi materiali per la sua arte non fatelo se volete bene perché costui intercetterà nelle vostre parole un guanto di sfida per cui andrà a cercare nei cataloghi dei più importanti marchi di produzione di materiale artistico qualcosa che all'apparenza sembrava appunto essere perfettamente inutile ma che diventerà essenziale necessario fondamentale per il suo lavoro questo preambolo solo per dirvi che vi voglio presentare un indispensabile fondamentale e necessario set di matite che mi mancava effettivamente questo questo set ce lo lo vende lo produce la carandash che è un marchio molto famoso svizzero sicuramente di grande prestigio e anche molto costoso devo dire penso che in europa sia forse tra i più costosi però senz'altro produce materiali di ottima qualità in generale adesso vediamo di cosa si tratta perché questo prodotto in realtà io non l'ho ancora testato l'ho soltanto aperto per sberciare ma mi faceva piacere provarlo proprio in occasione di questo piccolo video cosa contiene dunque questo set di matite ce lo dice già nello scato dallo scatolino giustamente sono matite in grafite idrosolubili poi c'è anche un pennello conservatorio d'acqua vabbè tutto questo racchiuso in una confezione in metallo benissimo andiamo ad aprire mentre apriamo io mi comincio a domandare che cosa sia una matita di grafite idrosolubile quindi potremmo dire acquarellabile che cos'è come mai una matita si può acquarellare se vogliamo dire così che cosa significa che è idrosolubile normalmente le matite in grafite non sono idrosolubili noi lo sappiamo perché non solo siamo tutti sicuramente a giorno del fatto che in quanto fisici e chimici mancati la grafite è una forma del carbonio e dunque una forma diciamo allotropica cristallina non si scioglie in acqua non lo sappiamo ma soprattutto perché a parte gli scherzi in realtà noi abbiamo sicuramente provato l'esperienza di passare dell'acqua su un disegno ci sarà accaduta per caso o ce l'abbiamo messa noi abbiamo sicuramente provato che l'acqua sulla grafite non non sortisce alcun effetto si bagna il foglio ma non trascina via il colore questo perché perché la grafite che è contenuta all'interno delle matite tradizionalmente intese matite in grafite questa grafite appunto mescolata ad altri ingredienti per lo più argilla che pure non risulta essere solubile legata con materia per lo più grassa quindi oli cere altri materiali che hanno una caratteristica di essere liposolubili al limite ma senz'altro non sono idrosolubili cioè non si sciolgono in acqua quindi se la grafite non è solubile non lo è l'argilla non lo è elegante quella roba lì non la schioderai con l'acqua e quindi effettivamente ha una certa resistenza tanto è vero che la base utilizzare la matita alla base di un acquerello non garantisce comunque una certa pulizia del disegno malgrado sicuramente non utilizzeremo matite particolarmente grasse per l'acquerello ma semplicemente perché si tende a sporcare il foglio non a sciogliersi in acqua ma trascinarsi sul foglio e quindi chiaramente può compromettere insomma il nitore dell'elevento della pittura quindi del della materia dell'acquerello in in acqua ma nel caso appunto specifico non si scioglie quindi che vuol dire che la matita è acquarellabile o che idrosolubile per meglio dire vuol dire evidentemente che il legante non è una materia particolarmente grassa o comunque è una materia senz'altro che è idrosolubile quindi andiamo a vedere che all'interno di questo di questo scatolino essenziale carino troviamo due gruppi di matite c'è un gruppo che è caratterizzato da una laccatura nera opaca satinata molto molto chic devo dire la verità che sono appunto matite 3b cioè b3b 6b quindi sono matite che sono idrosolubili e che hanno una diciamo morbidezza crescente quindi da b a 6b e le mettiamo un attimo da parte ci ritorniamo fra poco e poi abbiamo queste altre matite che hanno invece una laccatura un po diversa cioè hanno una colorazione sul verde oliva sul rossastro e sull'azzurro e sono definite come tecnalo rgb rgb ci viene subito alla mente o il modello di colori di tipo additivo e quindi r sta per red cioè rosso g sta per verde green e b sta per blu banalmente quindi effettivamente i tre colori sono i tre colori diciamo del modello di colori additivo ovviamente non so in che misura questo possa realmente azzeccarci con la matita perché di fatto questo è un modello che viene utilizzato soprattutto per quanto riguarda la il digitale quindi chiaramente sui fasci di luce fasci di luce diversi che sovrapponendosi fra di loro producono tutta la tutte le gradazioni cromatiche dello spettro in questo caso sicuramente viene utilizzato più per per assonanza no dei colori quindi la scelta di queste tre tonalità che vi immagino che siano tre colori diversi anche se dalla punta sembrano perfettamente identiche ma in mano tutte e grigie quindi vediamo per appunto dovrebbe essere evidente dovrebbe virare in ogni singolo caso verso una ecco verso una colorazione allora qui c'è proprio il colore la tonalità non si vede no ecco qua blu di prussia ed è blu qui abbiamo l'acca carminea quindi carminio rosso carminio e poi abbiamo verde ptalo scuro quindi verde ptalo cianino benissimo quindi queste sono le tre tonalità quindi dovrebbero essere adesso vediamo delle matite acquerillabili o comunque idrosolubili che dovrebbero virare per avere delle sfumature che vanno in queste gradazioni mentre queste non ce l'hanno non sono le uniche matite c'è l'unico marchio la carandascia a produrre matite di tipo acquarellabile sicuramente lo un altro ma per non allontanarci troppo la lira che è una marca tedesca eccola qua fa un certo tipo di matita acquarellabile e questo è non ha una una durezza però ha un colore un grigio più chiaro un grigio più scuro ma no eccolo qua 4b 8b ecco qua e quindi esiste già ma esiste anche in una forma di diciamo gessetto se vogliamo che un gessetto in grafite molto utile in varie gradazioni io ne ho diverse e poi la fa sicuramente la faber castell e sicuramente anche altri marchi che adesso non mi vengono in mente perché non li ho mai testati però insomma io entrerei nel vivo della della questione e proverei queste matite e vediamo come funzionano qui c'è anche il nostro serbatoio che andrei anche a riempire no è complicato farlo adesso quindi userò un pennello comunque insomma il pennello a serbatoio è comodissimo quando non sei forse non è scomodo farlo quando sei fuori casa per esempio perché ti consente di portare con te una quantità d'acqua che invece di recuperare dal dal pennello la recuperi direttante al serbatoio adesso vi faccio vedere questo adesso no non ho riempito nulla questa operazione poi vedremo andiamo a provare queste matite allora partiamo dalla b 3b 3b e 6b ok proviamo cominciamo con le prime utilizzerò un pennello che quello non non l'ho riempito ancora quindi un bombasino piccolo e andiamo a vedere quindi la grafite giustamente si muove si vede proprio che quella che non è stata già assorbita dalla carta si trascina sulla superficie quindi puoi spostarla creando appunto questo effetto acquarellato vedete si vede continuerei con la 3b ci aspettiamo insomma una stessa presa ma appunto un colore più intenso e di fatto devo dire infine la 6b e ancora più nera bene bene l'effetto finale effettivamente possiamo anche ancora trascinare del colore perché è davvero carico e quindi effettivamente qualche sfumatura la possiamo ottenere anche con il pennello ancora carico di pigmento che in questo caso è grafite adesso andiamo insomma sul nostro divertimento di oggi che è invece appunto l'rgb quindi proviamo prima con green verde all'apparenza è proprio un bellissimo grigio di verde non vedo nulla quindi il disegno non acquarellato diciamo avrebbe una resa del tutto simile forse sul grigiasso quindi abbastanza chiaro del tutto simile quindi questo è green andiamo sul red red per esempio è più intenso ha una colorazione più intensa sempre grigio cioè non ha un non vibra se non appunto bagnandolo evidentemente adesso vediamo se è così e quindi questo è red e poi abbiamo il blu ha la consistenza di una matita voglio dire B forse anche un po' più secca ma ha proprio il colore di una matita chiara cioè abbastanza chiara cioè sono andata molto forte con ah e questo è blu scriviamolo adesso proviamo con il nostro pennello l'effetto che otteniamo allora io non mi sento dire che questo è verde cioè non me lo sento non me la sento sinceramente è come se fosse un grigio acido non ha la diciamo la piacevolezza calda del grigio della grafite che è un grigio caldo in questo caso invece è proprio un grigio acido interessante però verde no cioè verde no no proprio no però è un bel grigio proviamo il rosso ecco qua invece si sviluppa un calore laddove il green è un grigio veramente freddo freddo e acido ha delle delle note giallastre giallastre qua invece abbiamo forse sì qua si intercetta di più un color rosso che è comunque molto leggero ma non è male ed è molto caldo proviamo il blu che era quello che mi interessa di più perché vado pazza per il blu ma di fatto sono sicura che è quello che si noterà di meno e anche perché appunto è così sì un vago sapore di blu un sapore un sapore di blu ma molto blando e soprattutto rispetto agli altri due ha una diciamo scioglievolezza inferiore infatti il tratto vedete non si è è più dura è una matita molto più dura come in realtà mi sembrava già da subito ecco qui le nostre matite cosa dirvi secondo me si può lavorare su questo materiale su questa studiandolo bene con le giuste caratteristiche forse questa blu è quella che non comprerei se fossi che era la mia preferita in assoluto nel senso immaginavo fosse la mia preferita invece no le altre acquerellabili sono belle e hanno anche un senso hanno un senso proprio per arricchire la gamma dei grigi vero sul rosso non sono andata anche non ho trascinato il colore anche da parte però si vede una resa cromatica proprio diversa la luce non è delle migliori senza altro e quindi forse vi aggiungerò poi qualche altro elemento qualche immagine però si si vede che questa gamma di grigi è particolarmente questa gamma è una gamma di grigi che tendenzialmente accresce l'intensità ovviamente sulle matite più morbide più grasse diciamo mentre qui la varietà del calore di questo grigio è interessante quindi questa è una tonalità più acida questa è molto più calda questa dovrebbe essere una tonalità fredda che però secondo me non è riuscita bene non è un prodotto che comprerei ripeto e che consiglierei certo nel kit uno se lo trova magari ci ragiono meglio e vediamo darsi che abbia tutt'altre sfumature e caratteristiche bene allora noi ci risentiamo ci rivediamo presto e buon lavoro